Sono partiti da Verona con il loro non ci fermate tour. I deputati del Movimento 5 Stelle espulsi dal Parlamento fanno un'unica tappa nel Vicentino a Montecchio Maggiore dove incontrano gli oltre 200 attivisti e l'esponente di Spico, uno dei portavoce nazionali, spiega i motivi della loro ormai famosa protesta in aula. Noi giriamo tutta l'Italia, ci hanno cacciato fuori dal Parlamento quando invece preferiscono tenere lobbisti, pidduisti e amici dei camorristi. Noi abbiamo combattuto per salvare i soldi pubblici da un regalo vergognoso alle banche private e quindi dato che non ci fermiamo mai abbiamo lanciato l'idea del non ci fermate tour e stiamo girando tutta l'Italia a fare controinformazione, a raccontare quel che si fa in Parlamento, a chiedere anche proposte, anche ad ascoltare critiche per migliorarci eventualmente. e a lanciare anche la campagna elettorale per l'europea perché è fondamentale vincere l'europea. L'attivista di Montecchio, Sonia Perenzoni, fa gli onori di casa mentre Vittorio Ferraresi, altro deputato punito, annuncia che giovedì sarà discusso alla Camera la loro mozione sull'alluvione per l'indennizzo a cittadini e imprese. Noi chiediamo il risarcimento con un indennizzo dei danni a mobili e immobili appunto presenti su questi territori che hanno colpito colpiti dall'alluvione.